Colori, luce, vita e rinascita sono le prime parole che ci vengono in mente quando pensiamo alla primavera. E proprio in questo giorno, 21 marzo a Sassari, è stata promossa la prima giornata di Figli in Paradiso, organizzata dall'associazione locale Riccardo Simula, la forza della vita. Una giornata per non dimenticare, ma anche per sostenere e incoraggiare le famiglie che hanno perso i propri figli troppo presto in seguito ad una patologia o un evento traumatico. Ci troviamo in piazza d'Italia a Sassari perché come associazione vogliamo che il 21 marzo, quale è il primo giorno di primavera, diventi la giornata nazionale per ricordare questi figli che non ci sono più. Oggi siamo qua un po' per promuovere l'associazione e per raccogliere anche i fondi. Qualche messa verrà celebrata anche in qualche altra città, a Cagliari, a Cabras e nella diocese di Tempio. Il lutto colpisce tutta la famiglia, in primis i genitori, ma ci sono famiglie che hanno anche fratellini, con diversi disagi, perché poi è tutto un mondo che ruota intorno a questo tragico evento. Molte famiglie non riescono più a riprendersi, per cui lo scopo è proprio quello di ritrovarci, riunirci, lavorare e parlare anche del trauma subito, ma anche cercare di trasformare il dolore in un'energia differente. Dalle lacrime nasce un sorriso, nasce una forza che va trasformata ed è bello essere tutti insieme. È possibile partecipare ogni mercoledì ai gruppi di incontro organizzati in Via Torino nella sede dell'associazione, presente anche su Facebook e Instagram. Grazie a tutti.